L'assegno per il lavoro, finanziato con 9 milioni di euro nell'ambito della programmazione regionale dei fondi FSE 2014-2020, è una misura di politica attiva rivolta ai disoccupati over 30, introdotta in via sperimentale in Veneto nel 2017. Si tratta di un voucher virtuale che ha un valore massimo di 5.242 euro, richiedibile presso i centri per l'impiego e attivabile in ognuna delle 400 sedi accreditate ai servizi per il lavoro nel territorio regionale. L'assegno dà diritto a ricevere servizi qualificati di orientamento e assistenza alla ricollocazione. Interessanti sono i dati di questa misura di politica attiva per quanto concerne la provincia di Belluno, secondo quanto riportato dal recente monitoraggio realizzato dall'Agenzia Veneto Lavoro. Noi abbiamo il 5% di questi assegni rilasciati in regione, che sono in totale 13.863, quindi il 5% è stato rilasciato in provincia di Belluno e quindi 646 assegni. È un dato interessante e diciamo che l'altro dato interessante rispetto alla distribuzione per età di questi assegni evidenza che rispetto alla regione abbiamo una percentuale maggiore di over 50, cioè di disoccupati con più di 50 anni a cui abbiamo rilasciato l'assegno. Quindi un 39% di queste persone hanno un'età over 50, che vuol dire che c'è un'azione di politica attiva importante per questa fascia di età di disoccupati che è sempre di difficile ricollocazione. Noi abbiamo in regione il 37% di over 50. Una misura che nel territorio provinciale ha portato dei risultati anche al di sopra della media regionale. Allora di questi assegni rilasciati sono stati attivati un 76%, quindi 494 persone hanno seguito il percorso. Di quelli conclusi in questo momento abbiamo una percentuale molto interessante perché il 70% di persone in questo momento sono occupate. Però il dato del 70% di occupati è molto interessante perché invece in regione questa percentuale è del 56%. Viaggno non accettano un 7%. Grazie.